Viva la Madonna! È la nostra madre! Affidiamoci a lei, che lei ci custodisce come una buona madre. Io prego per voi, ma vi chiedo di pregare per me, perché ne ho bisogno. E pregare per me. Vi auguro una buona domenica domani. Arrivederci. Adesso vi do la benedizione a voi e tutta la vostra famiglia. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Buona domenica!